La adrinazione a battipaglia. Tre automobili sono state sfasciate l'altra notte dai malviventi che poi hanno rubato le autoradio e qualche oggetto di poco valore, riposto negli abitacoli dei veicoli. L'episodio è accaduto nel rione Sant'Anna. Amara la sorpresa per i proprietari delle auto che sono stati costretti a recarsi con i veicoli dai carrozzieri per farli riparare. I malviventi hanno sfasciato i finestrini delle autovetture e anche gli specchietti retrovisori. Ovviamente i ladri hanno agito molto velocemente, stando ben attenti che non ci fossero telecamere che li riprendessero. Probabilmente i malviventi, prima di sfasciare i veicoli, hanno notato gli oggetti da poter rubare e poi hanno rotto i finestrini delle auto in sosta. Del resto, non è la prima volta che a battipaglia vengono compiute vere e proprie scorrebande dai ladri che rubano l'autoradio e qualche oggetto nelle automobili. Nelle scorse settimane i malviventi nel rione Serroni hanno preso di mira le automobili prodotte dalla Fiat e dopo aver rotto i finestrini sono riusciti ad impossessarsi di tutti i componenti elettronici e dei cruscotti. Grazie.